L'ottava giornata di B dal sapore di Serie A. Sarà che giocare di domenica ha sempre il suo fascino e che, tra l'altro, le urne hanno regalato un derby che alla Campania interessa molto da vicino. Salernitane Benevento è il top di giornata in scena alle 17.30 con le due tifoserie strette in una sorta di patto di amicizia. Guai a chiamarlo gemellaggio. I sostenitori delle due compaggini infatti si sono unite per sostenere Francesco, piccolo sostenitore sannita che ha avuto urgente bisogno di cure. Un'unione che continuerà a fanno sapere in un comunicato nel segno della solidarietà. Oltre al derby, la sfida di maggiore fascino è senza dubbio Hellas Verona-Brescia, con Cristian Brocchi che sfida la sua ex squadra, con la quale ha conquistato la promozione in Serie A nel 99. Il Trapani e Latina, le uniche squadre ancora a secco di vittorie in questo campionato, si sfideranno in terra pontina cercando di sfatare la statistica. Occhio inoltre alla sfida fra neopromosse Pisa e Spal. Il Pisa, ancora alle prese con guai societari, tenterà di salire ancora in classifica, dimostrando che l'ardore in campo, spesso, è l'unica cosa che davvero conta. La Provercelli, dopo la sconfitta esterna rimediata al Partenio, sfiderà la Ternana, mentre lo Spezia di Di Carlo sfiderà il 4-4-1-1 di Castori. Il neotecnico del Vicenza Bisoli, subentrato in settimana all'Erda, incontrerà l'altalenante Cesena di Drago, che nel frattempo ha recuperato Rodriguez e Vitale. Bariente è l'altro match di cartello con due squadre che hanno ben figurato lo scorso anno.